Ed ecco qui il bellissimo Dorian dell'allevamento Skillful Dogs di Danilo Valenti che fa una bella spa perché domani ha l'esposizione a Monte Carlo. Ma ne vogliamo parlare? Quindi si rilassa prima dell'esto, si fa una spa idromassaggio con ozonoterapia. Giusto? Una bella vita! Schampetto per questo bel ragazzo dopo la spa. Wow! Poi sciacquiamo e poi il balsamo. Eccolo qui col suo padroncino allevatore. Sciacquiamo il shampoo e poi procediamo col balsamo. Massaggio col balsamo. Dorian questa vita ti piace? Ci sta pensando? Ma direi di sì dai. E' una vita così ravvissiato, massaggiato. E che ride? Guardalo! E che ridi? Risciacquo dal balsamo con l'acqua zonizzata per fare l'unplaying. Se domani non vinci, guarda! Proprio! Andiamo a contestare! Siamo troppo fighi! Asciugatura! Ed eccoli qui, belli pronti! Diciamo Dorian pronto, che domani ci va Dorian in Expo. Ecco qui Dorian di Skillful Dogs con il suo allevatore Danilo Valenti. Darian! Cosa c'è qua? Bellissimo!